... Vediamo una breve carrellata sui concerti... Attenzione, attenzione, una grande sorpresa in radio, ti rendi conto! Cosa succede? Ti rendi conto! Si sieda, stia con noi! Ragazzi, direi prima di presentare, io sono veramente sconvolto che c'è questa persona, è del grande Pino Daniello, lo zio di Pino Daniele, quindi vuoi dirci qualcosa? Vuoi fare qualche commento? Si, volevo dire che secondo me la musica deve trasmettere del sentimento, infatti la musica che abbiamo sentito secondo me trasmette il sentimento, perché è la base che la musica deve praticamente, su che ascolti una musica ti deve trasmettere del sentimento, perché alla base del sentimento c'è la musica del sentimento. Come si sente che lei è un critico proprio, meditato? Si, io ho fatto delle scuole per analizzare il sentimento della musica, cioè che c'è il sentimento... Vuole sentimentali? No, è una roba più che altro del sentimento, proprio che riguarda il sentimento, quindi direi ascoltatevi questa musica e state proprio voglio. Insomma, lei ha un diploma in sentimento? Si, diciamo che più che altro è una roba che riguarda proprio il sentimento, che la musica è collegata con le emozioni e il sentimento. Si, infatti, no, ha fatto bene a ricalcare questo concetto perché non c'era chiaro ancora. Ok, grazie, l'abbiamo mandato via, è molto... Ok, dicevi Paolo? No, dicevo appunto di alcuni concerti che senz'altro trasmetteranno molto... Pronto? Pronto? Io voglio mostrare, voglio come tu che sei la mia amministratrice e io sono molto contento perché so che a chi mi ascolta... Pronto, stai fuori te? Chi sei che stai così fuori? Io sono... Io faccio il presente, Pino Daniele, io sono Pino Daniele, no? Dai, dimmi chi sei in realtà? Ti conosco io... Siamo noi su, ma che accendo e due? Scusa, parlo in italiano perché ci vuole sentimento a me quando si parla... Con sentimento, chi sei? Con molto sentimento, insomma, io sono... Voi non ci vuol dire, io sono... In me, in me la tua identità... Siamo sconvolti, la comunicazione è stata brutalmente interrotta... 0-4-0 Il critico musicale, insomma, io faccio l'idraulico... Ma tu fai l'idraulico con sentimento? Posso i cessi e... Che si fa? E dai... E volevo sapere come mai stavate parlando di quelle cose che non si capiva niente, insomma, che io sono qua a ascoltare con sentimento... Ma tu, tu sei sempre ignorante, mica è così... Io te stavo, te stavo acculturato e stavo... E dai, Agnello... E dai... Ma che caspita, io stavo ascoltando qua... Con calma, tu ti metti lì, tranquillo, perché dai, non era possibile, te lo ripeto, se vuoi... Se non hai capito, te lo ripeto... Ma io, tu lo vado in... In ruota dell'elettricista, ma non capisco di queste cose perché... È così, insomma, è... E c'è un sentimento... Ma scusate... Ma scusate... Tu sempre il sentimento c'hai... Tu giusti i cessi con il sentimento... Ma è così... Poi l'oroscopo con il sentimento... Sono ieri, grazie... Che segno sei? Io sono del... Il segno... Del pesce donato... Il pesce donato... Un attimo che te lo... Te lo... Te lo faccio... Sì, ma io tanto ho perso il segno... Perché è scendente... Perché è scendente... Perché è scendente... Olio extravergine, sì... Olio extravergine... Olio extravergine... A posto... Allora aspetta un attimo che ti trovo subito il segno... Sì... Allora... Sei parente di Gianni Agnello? No, Gianni Agnello diciamo che resta il mio nipote di quarto grado... Nipote... E quindi... Quanti anni c'hai, Pino Agnello? E come... Quanti anni c'hai, caro? Io sono... Sono del 62... Ho 44 anni... Sei del 62... Hai 44 anni... Sì... I conti tornano... In effetti siamo nel 2006... Come... Mi sembrava anche a me... Forse sono un po' indietro io con l'orologio... Stamattina non l'ho caricato... Perché qua Napoli c'è un altro conto... Noi abbiamo un altro tipo di... Di calendario... Di calendario... Di calendario... Quello Maya immagino... Ma è un calendario che si... In realtà si sceglie un po' così... A caso... Con sentimento... Con sentimento... Con sentimento... Sì... E' una cosa che... Uno... Ma infatti... Mi piace molto... Dopodomani... 23... Dopodomani... Sì... C'è una festa... Una festa di ragazzi... E quindi apro 23 anni... Ma il compleanno? Il compleanno... Quando voglio? Quest'anno lo faccio 6 volte il compleanno... L'anno fa 6 volte io... Il giorno della pensione... 66 anni... Quando c'è da cuccare... 23... Giusto? Io so che l'ufficio postale... Chiuderebbe alle ore 16... Io... Fantastico... Adotterò anch'io questa tecnica... Non l'è male... Non l'è male... Mi fai morire... Mi fai... Mi fai... Mi fai... Guarda... Io te... Te faccio... Un neuroscopo che... Te manderà... Sulle stelle... Te manderà... Direttamente... Sulle stelle... Scusi... Ho detto... Prima che la facevo morire... Sì... Perché c'è il mio... Ugino che è... Marcello Daniello che è... Le domme... Le casse da morte fa... A posto... Faccio le corna... Agnello... E poi... Faccio toccare... Faccio un po' di scongiuri ai ragazzini... Faccio fare... Sì... Faccio toccare... Faccio toccare... Toccatevi... Sì... Ci tocchiamo... Ecco... Allora... In luglio... Per te... Chiaramente... Che sei un pesce con l'olio di semi... No... Ho cambiato sì... Ah... Adesso sono un delfino... Vabbè... Vabbè... Perché oggi ho pronto anche il segno del delfino... Sì... E quindi è un mese vivacissimo... Pieno di belle cose... Di... Di belle sensazioni... Tante belle cose... Accrescono la tua voglia di amare... Di essere felice... Di... Ehm... 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 Incontrare il tuo... Cos'è nipote... Sì... Io non mi ricordo più... Sì... Ehm... Così... Ehm... 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 Anche delle novità... Che... State aspettando... Si realizzeranno... Al più presto... E quindi... Vai... Da fogo... E' il tuo mese... Ma ti è scritto proprio così... Ehm... 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 Sentimento proprio come... Ma te l'ho letto con tutto il sentimento che c'avevo... Ehm... 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 Ciao, ciao... Buonanotte... Buonanotte... Ciao, ciao, ciao...